Musica Riprendono le attività della Ludoteca Cittadina del Comune in Piazza Miracoli. Dal martedì al venerdì, prenotandosi via WhatsApp allo 081-197-06-092, i più piccoli potranno partecipare accompagnati dalle loro famiglie alla vasta programmazione di attività di gioco e laboratoriali organizzate dalla cooperativa sociale Progetto Uomo a cui è affidata la gestione. Le novità sono sicuramente un'apertura alle famiglie, quindi non solo ai bambini, ma un'offerta che propone alle famiglie di giocare insieme. Quindi dalla mattina con i piccoli 0-3 fino ad arrivare a delle sere mensili in cui si gioca tra adulti e tra adolescenti e famiglie. Per noi è un grande traguardo perché avere un posto fisico dove proporre delle cose alle famiglie e non solo ai bambini è strategicamente innovativo. Nata oltre 20 anni fa come spazio educativo e di socializzazione sul territorio, la ludoteca comunale vuole essere anche uno strumento di prevenzione efficace contro situazioni di disagio e marginalità che coinvolgono i minori e le loro famiglie. Le attività di gioco hanno visto una rimodulazione dei tempi e degli spazi che mira a coinvolgere tutte le fasce d'età, non solo bambini fino a tre anni con la presenza degli adulti, ma percorsi di orientamento per gli alunni delle scuole superiori, laboratori creativi ed iniziative all'aperto. Riapre la ludoteca cittadina con l'anna grande perché è la ludoteca della città di Napoli. Per noi è importantissimo il gioco, l'educazione e tutti i bambini della nostra città devono avere uno spazio dove poter sentirsi liberi di esprimersi. Questo è un luogo bellissimo tenuto in una maniera eccezionale. Sarà aperto ai bambini da 0 ai 3 anni ma anche ai bambini più grandi dove faranno campi estivi, laboratori, spazi ludici ai bambini e alle famiglie perché dobbiamo educare al gioco sia i bambini che le famiglie. La presentazione delle attività che nell'ottica di garantire politiche sempre più inclusive è stata tradotta da un interprete nel linguaggio dei segni è stata l'occasione per annunciare gli appuntamenti della giornata mondiale del gioco il 27 e 28 maggio che per la prima volta si svolgerà negli spazi e nel giardino della ludoteca cittadina. Proprio sulla scia dell'ospitare le famiglie il 27 proporremo qui in ludoteca una serata per famiglie quindi 10 più l'abbiamo denominata mentre invece il 28 nel giardino dei miracoli sempre diciamo nello spazio che ospita la ludoteca ci sarà la giornata tipica nostra del gioco dove dalle 10 alle 18 ci saranno attività di tutti i tipi da laboratori, gioco, esperienze culturali per i bambini. Noi andiamo in giro per le piazze e i parchi con l'altra azione del progetto quindi una città per giocare e c'è dal 2016 attiva ma non basta, bisognerebbe avere una ludoteca in ogni municipalità come c'era un tempo.